Ora, come ogni giovedì, le anticipazioni del prossimo numero di Luce e Vita, il giornale della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Luce e Vita numero 38 di domenica 17 novembre. Questa domenica tutta la Chiesa celebra la terza giornata mondiale del povero voluta da Papa Francesco. Ogni comunità parocchiale provvederà all'organizzazione di momenti o eventi. Nel messaggio del Papa, ascoltabile direttamente dal QR code riportato sul nostro settimanale, l'attenzione è concentrata sul dovere del cristiano di restituire la speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita. Messaggio richiamato anche nell'editoriale di Luigi Sparapano. A pagina 2, focus sul primo appuntamento del terzo anno della Scuola di Democrazia, tenutosi presso l'Immacolata di Giovinazzo lo scorso 26 ottobre. Si è discusso sui malanni che affliggono la casa comune e sulle scelte quotidiane che nel piccolo possono aiutare il pianeta. Don Nicola Battista, pagina 3, apre una finestra sul recente sinodo sull'Amazzonia, in cui questa quarta assemblea sinodale voluta da Papa Francesco ha manifestato una chiesa desiderosa di accompagnare da alleata il cammino dei popoli e ha affrontato tematiche etiologiche strettamente intrecciate alla vita concreta delle popolazioni, alle tensioni geopolitiche e alla cura della casa comune, di fronte ai cambiamenti radicali e rapidi con cui ci stiamo confrontando. Il paginone accoglie in questo numero le voci e le prospettive della parrocchia Santa Chille di Molfetta, visitata da Monsignor Cornacchia dal 14 al 17 novembre. Una parrocchia abituata ad un continuo divenire che si configura tuttora come gregge in transumanza per scoprire sempre nuove vie di evangelizzazione, afferma Don Raffaele. Nata in un quartiere di periferia ne ha visto la forte espansione fatta di spinte e difficoltà che ha reso necessaria la costruzione di una nuova parrocchia con elementi artistici essenziali e significativi. A pagina 6, il ricordo di Franca Salvemini, l'aderente di azione cattolica più anziana della nostra diocesi. Ci ha lasciati il 6 novembre scorso all'età di 97 anni. Una donna fervida, punto di riferimento per intere generazioni. Un patrimonio, come l'hanno definita in molti, per l'azione cattolica e per la Chiesa. Una donna di fede, la ricordano i parrocchiani della cattedrale di Molfetta e Angela Paparella, già presidente diocesana di azione cattolica. A pagina 7, il racconto della scelta vocazionale di Cosmo Binetti, giovane della parrocchia San Domenico di Molfetta, studente dell'ordinariato militare, ordinato diacono presso la Basilica Santa Croce in Gerusalemme di Roma. Sulla stessa pagina, il punto di vista del dottor Grananiello in merito al cammino di Santiago. In ultima pagina, la rubrica di spiritualità di Don Luigi Ziccolella e altre notizie della diocesi. Sabato 23 novembre, presso la parrocchia Santa Lucia in Ruvo, si svolgerà il convegno diocesano dei gruppi di preghiera di San Pio. La riflessione sarà guidata dal sacerdote Don Francesco del Conte, vicario parrocchiale, presso la parrocchia Maria Santissima in Coronata in Corato. Nei giorni scorsi, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Bari, alla presenza del prefetto di Bari, Marilisa Magno, del vicepresidente della Regione Puglia, Antonio Nunziante, e dell'assessore del Comune di Bari, Carla Palone, è stata consegnata la medale ad oro al merito civile alla memoria del ex sindaco della città di Molfetta, dottor Gianni Carnicella, ucciso il 7 luglio del 1992. Domenica 24 novembre si svolgerà la terza tappa del cammino di Don Tonino da Terlizzi a Giovinazzo. È possibile iscriversi compilando il modulo apposito sul sito www.camminodidontonino.it. La parrocchia Santi Medici di Terlizzi promuove un incontro per la campagna di azione cattolica sui nuovi stili di vita venerdì 22 novembre con Don Tonidrazza, assistente nazionale del settore giovani di azione cattolica. Il tema sarà un volto, una carezza. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Grazie per l'attenzione e buona lettura.